Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Il maltempo arrivato nelle ultime ore in Italia sta rapidamente raggiungendo i Balcani grazie alla spinta dell'anticiclone delle Azzorre che sta conquistando per un momento tutta l'Europa centro-occidentale ed è evidenziata da questo ammasso di nubi alte legate al fronte caldo di questo anticiclone. Il fronte caldo che raggiunge l'Alitalia nel corso di questo giovedì. Avremo una giornata stabile in Abruzzo però con tante nubi alte legate all'appenna citato fronte caldo che ovviamente non darà luogo a fenomeni, anzi le temperature sono attese in aumento, massime fino a 15 o 16 gradi sulle coste del primo entroterra, aumentano le temperature nei valori massimi anche in Appennino, notate i 10 gradi di L'Aquila, millimetra 1 e 8 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Controllare gli accessi, igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visite il nostro sito safegatepro.com Grazie per la visione!